La situazione è difficilissima anche perché essendo in legge Marzani i commissari fanno i notabili della situazione e quindi hanno un procedimento industriale da mettere in campo. Pensano a vendere gli asset ma secondo le valutazioni che loro hanno, le aziende purtroppo si gestiscono in altra maniera. Qui è il limite della Marzano, questo è un dato oggettivo. Una volta c'erano altri strumenti, oggi abbiamo questo che da una parte garantisce in parte i lavoratori per un periodo di tempo, però per il resto quasi uccide l'azienda. Quindi questa è la grande preoccupazione. La preoccupazione vera è che non essendoci un piano industriale, non essendoci persone che dietro ai sacrifici poi fatti dall'azienda possano rimettere in piedi un sistema industriale. Qui rischiamo di cancellare 3.000 posti di lavoro, cancellare, non sostituire, che questa è la cosa più drammatica. È vero che non ci sarebbero manifestazioni di interesse per l'azienda? Dalle voci che dicono ci sono manifestazioni di interesse su alcuni asset, quindi quello che è l'Ucraina, magari quello che è il Nord Europa. Non il bianco a Fabriano? Non il bianco a Fabriano, perché sembrerebbe, ma qui c'è sempre molta omertà su questa cosa, che chi aveva manifestato un interesse sia fuggito. Quindi il problema vero è che qui per gestire le aziende ci vogliono manager non notabili della situazione, che guardano i conti, che hanno approvato magari i tribunali e lasciano poi andare tutto in malora. La preoccupa lo spretto del fallimento per la città di Fabriano? Credo che sarebbe non solo per Fabriano, per tutto il territorio e per la regione Marche, attenzione, perché non è solo i dipendenti diretti, sono i dipendenti indiretti, quelli che sono ancora di più. Quindi qui coinvolgeremo qualcosa come 10.000 persone. Credo che sia una cosa da evitare totalmente, sarebbe il più grosso fallimento, tra virgolette, la più grossa impresa della regione Marche. Quindi credo che questo, io, c'è il presidente della giunta regionale che sta facendo i salti mortali, ma con un governo sordo come è stato fino adesso, credo che la cosa diventa ancora più complicata e credo a questo punto che ci sia necessità di una vera e propria mobilitazione generale. Basta essere i soliti marchigiani per bene, quelli che con calma, con educazione, protestano. Forse bisogna cominciare a vedere quello che hanno fatto gli altri da altre parti. L'azienda aveva un valore importante per come era costruita e con la determinazione della proprietà. Oggi che queste cose sono venute a mancare, naturalmente in un mercato complicatissimo come quelli degli elettrodomestici, che perde posti di lavoro in continuazione anche in altre aziende, l'Antonio Merloni ha una crisi difficilmente recuperabile. Qual è la probabilità di fallimento dell'azienda? In questo momento sono altissime. Perché? Perché in una condizione di questo genere, molto probabilmente questa azienda non potrà andare avanti per molto. Addirittura se non c'è la volontà politica, molto probabilmente sono questioni anche di qualche settimana o qualche mese. Noi stiamo lavorando per quello. Ad oggi è in piedi un tavolo di confronto al Ministero delle Attività Produttive proprio per scongiurare questa situazione. E le indicazioni che ci arrivano dai contatti che si sono svolti in questa settimana, come sempre succede, vanno nella direzione giusta, che si dovrebbero trovare almeno per il momento delle condizioni per andare avanti. Però naturalmente questo, soltanto la riunione di oggi ce lo potrà dire. Abbiamo visto prima che si è scontrato con alcuni manifestanti probabilmente di un altro sindacato. Ovviamente forse scontrato è una parola grossa, forse c'è stato qualche battibecco di troppo. Ecco, qual è il motivo del contenere? C'è una sorta di frizione tra sindacati relativamente a questa vicenda? Ma guardi, questa è una vicenda che meriterebbe forse una trasmissione apposita. Se ce la semplifica? Provo a semplificare. Allora, da un po' di tempo c'è un gruppo di lavoratori che si rivede prevalentemente in alcune forze politiche che stanno tentando di escludere le organizzazioni sindacali dalla rappresentanza. Questo con iniziative unilaterali, tenendo nascoste alcune cose, impedendo come oggi che ci sia un confronto corretto. Questo naturalmente per un po' di tempo abbiamo cercato di tollerarlo all'interesse generale. Oggi abbiamo deciso di rendere esplicite queste questioni, queste divisioni. perché poi sono i lavoratori che spesso e volentieri vengono informati in maniera non corretta degli avvenimenti.